Ciao a tutti amici del toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami il toro, tendenze energetiche generali per la prima parte di marzo e abbiamo il sole. Amici del toro, periodo di chiarezza mentale, periodo di espansione, di crescita. Quando c'è il sole si fa sempre riferimento a qualcosa che riguarda la gioventù, i bambini o qualcosa che deve crescere appunto. È un qualche cosa di acerbo che va verso l'espansione, la crescita. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto, come sempre, vi ricordo che le letture sono di carattere generale. Sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o venere. Sotto, nella descrizione del video poi, troverete il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi. trovate il link al corso gratuito di tarocchi e trovate anche il link alle previsioni semestrali del 2023. Per chi invece volesse contattarmi può scrivermi un'email all'indrizzo che vedete qui. Allora, partiamo con la carta della torre. Un 4 di spade, il diavolo, il fante di bastoni, un re di bastoni al contrario, un fante di coppe e un 9 di spade. Guardate ragazzi, si parte da una situazione importante perché abbiamo la torre, quindi sicuramente c'è stato un crollo delle sicurezze, un crollo di qualche tipo di certezza, dalla quale voi o vi state riprendendo o avete bisogno di riprendervi, ok? Essendoci anche il diavolo può essere una fase di condizionamento. Tenete presente che questo è l'ego e questa è la caduta dell'ego, quindi siamo in quella zona lì, in zona mentale, zona io voglio, io devo dimostrare, io so, voglio la rivincita, quello è un po' l'ego, no? C'è bisogno con questo 4 di spade però di riprendersi un po' al proprio equilibrio psico-emotivo. È una carta di guarigione il 4 di spade e il diavolo, come vi ho detto, è una carta che fa riferimento al potere mentale, ai giochi della mente e anche molte volte a quello che è una schiavitù di tipo volontario. Il fante di bastoni potrebbe rappresentare una persona o potrebbe rappresentare un'energia, però essendoci in campo molto ego sul tavolo direi che è più un atteggiamento tendenzialmente egoistico in questo caso. Poi lo vado a spiegare meglio con i mini tarocchi, non è detto che sia così come lo sento di primo acchito. Andiamo a vedere un attimino di che cosa si tratta di più nello specifico. La seconda parte del periodo, ragazzi, c'è un fante di, scusate, un re di bastoni e un fante di coppe. Ho come la sensazione che questo re di bastoni possa essere una persona che in qualche modo vi faccia un'offerta, che voi un po' temete, nel senso che comunque c'è un 9 di bastoni, un 9 di spade alla fine della lettura, quindi c'è la paura di passare di nuovo attraverso tutto questo trauma. Se il fante di bastoni fosse una persona, potrebbe essere la stessa persona del fante di coppa. Adesso lo andiamo a vedere. Andiamo a vedere la torre, prima di tutto. Abbiamo il matto e il 9 di spade che è l'energia che si ripete qui. Ho come la sensazione che qualcuno abbia preso una decisione d'impulso, forse anche non troppo premeditata, magari spinti dalla rabbia, dall'istinto, è proprio stata una questione impulsiva. E' come il crollo di qualche tipo di realtà che è avvenuto in modo improvviso. Però ecco, essendoci comunque la carta del matto, quando c'è la torre si parla di distruzione, o meglio detto, destrutturazione del proprio ego, però poi c'è anche una ricostruzione del proprio ego, in modo magari anche più sano. Adesso poi andiamo a vedere il diavolo. Andiamo a vedere il quattro di spade, la morte. E' un sei di pentacoli. C'è qualche abitudine qui da lasciarsi indietro. Perché comunque potrebbe anche essere qualche questione materiale, avendo sei di pentacoli, come se ci fosse da rimettere in equilibrio le energie che investite, quindi su chi e su cose investite le vostre energie. Perché poi alla fine rischia che non ve ne rimangano più per voi. Fatemi vedere il diavolo. Quattro di coppe e fante di coppe nuovamente. Allora, il quattro di coppe, ragazzi, è una carta di cecità, normalmente. Scusate, un 5 di coppe, infatti mi sembrava. Il 5 di coppe è una carta che parla di una delusione, parla di una perdita, di tipo affettivo. È una carta che comunque ha emozioni basse, come un po' il vittimismo, anche il lutto, la tristezza. E poi c'è questo fante di coppe. Che potrebbe per qualcuno rappresentare un figlio, come se ci fosse stato un qualche tipo di condizionamento che ha creato un disagio con un figlio, che ha creato una perdita magari di fiducia. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Abbiamo un 7 di coppe, un asso di pentacoli, un cavaliere di bastoni al contrario e un cavaliere di spade. Ho l'idea che sia una questione con dei figli. Per qualcuno fa riferimento magari a dei figli che hanno lasciato il nido, o stanno per lasciare il nido. Magari per qualcuno è solo un cambio di casa, però c'è qualcosa che ha a che fare o con il figlio o con il bambino interiore, ragazzi. Perché qui si tratta veramente di... Di... Come vi posso dire? Ho come la sensazione che vogliate controllare un po' troppo i figli e questo ve lo dico perché sento che c'è il diavolo, ok? Qui quello che si è perso probabilmente nei confronti dei figli può essere proprio il controllo. Però è come se doveste imparare a dare in modo più equilibrato, a dare il giusto, a perdere certe cattive abitudini. E' come se ci fosse una sorta di troppo amore che alla fine sfocia nel controllo e non è sano né per chi controlla né per il controllato. Difatti qui sento che è un po' come se ci fosse la voglia da parte di questo figlio di andare o di questo fante di bastoni. Se per voi non è un figlio ed è per esempio un parente, una persona, ognuno di voi lo applichi alla propria realtà, come dico sempre. Però ho come la sensazione che... è come se non desse tanta fiducia. Se... comunque c'è una situazione diciamo impegnativa, no? Quei ragazzi... quindi quello che vedo con questo fante di bastoni è un po' come se vi mancasse l'entusiasmo. Ripeto, nel caso non fosse la situazione dei figli, vi manca un po' l'entusiasmo per guardare in avanti, per sperimentare, per vivere nuove avventure, per fare, per mettervi in azione. Come se foste un attimino in fase di contemplazione, qui lo vediamo, ok? Vi state come prendendo un tempo per rigenerarvi. Diciamo che poi qui ci sono due figure, che potrebbero essere di nuovo due persone, o semplicemente due atteggiamenti. Cioè... è un po' come dire voglio ottenere quel risultato, con una determinazione al 1000%, però poi da un punto di vista pratico non si fanno azioni. È come solo il parlare ma non agire. Però andiamo a vedere questo re di bastoni, 4 di coppe, 4 di spade. Qua avevamo un 5 di coppe e qui il 4 di spade. Io credo che qualcuno abbia... abbia un po' il pensiero, la paura, visto che qui anche abbiamo questo nome di spade, di essere rifiutati da qualcuno. O è come se non vi... Potrebbe essere che quest'ora di bastoni non capisca la vostra esigenza di dovervi prendere un riposo. È un po' come se... Potreste anche essere voi che rifiutate di prendervi un riposo, anche se non lo sento tanto perché siete già in quella fase. Però è come se ad un certo punto decideste che... Boh, basta, sono guarito, sono guarita. E invece qui è come se un po' vi dicessero no. In realtà non è così. Andiamo a vedere il fanti di coppe. Imperatrice al contrario. E il sole, ragazzi. Sì, di nuovo qui sento molto l'aria figli. Diciamo così, figlio, bambino interiore. Il fanti di coppe potrebbe essere qualcuno che vi fa un'offerta. Tenete presente che quando c'è il fanti di coppe, o è una persona giovane o giovanile, oppure indica il fatto che a livello emotivo, perché è un fanti di coppe, sia una persona un po' immatura. Normalmente le promesse che fa questa persona, che sono persone tendenzialmente che si lasciano trasportare dalle emozioni, sono comunque promesse che in realtà lasciano un po' il tempo che trovano, perché non trovano mai questa concretezza. Quindi ho come la sensazione che si ripeta un ciclo per voi, perché iniziamo con il 9 di spade e finiamo con il 9 di spade. È un po' come se venisse tirato fuori di nuovo un argomento in questo periodo, che magari si è già affrontato, che si ha paura anche da affrontare perché si ha paura ad essere rifiutati o magari a dire veramente cosa pensate, proprio perché magari non è accettato dall'altra persona. Andiamo a vedere il 9 di spade. Però questo sole qui fa riferimento ai bambini, che siano bambini fisici o bambini interiori, è qualche cosa che è legato all'essenza. 7 di bastoni, 6 di coppe e 5 di spade. Sì, ripeto, è qualche cosa che si ripete, probabilmente. Guardate, quando c'è il sole, molte volte fa anche riferimento agli amici. Ora, io so che qui parlo, cioè è una lettura generale, quindi in teoria quelle delle relazioni, cerco di, cioè le relazioni amorose o di amicizia, tendono a lasciarle in seconda. Piano e a prediligere magari le relazioni familiari piuttosto che il lavoro, però in questo caso il sole, cioè gli amici, potrebbero far parte o essere considerati parte della vostra famiglia. Quindi qui può anche essere che ci sia qualche questione in sospeso con qualche amico che si ripete, che torna da capo. E' come se ci fosse questa delusione che vi fa sentire impotenti, che vi fa sentire, che vi crea questa paura del rifiuto. Nel caso voi diciate la vostra, valutiate altre possibilità o mettiate il vostro seme. E qui è come di nuovo una promessa che si potrebbe fare, che probabilmente arriverà, ve lo dico. Un'offerta, qualche cosa, che però appunto lascia un po' il tempo che trova, perché avendo l'imperatrice al contrario e il sole al contrario è un po' come se fosse qualche cosa che non concretizza, che non si espande. Quindi qui quello di cui c'è bisogno è di curare il bambino interiore, ragazzi. Perché è qualche cosa, è un tipo di dinamica che risale all'infanzia. Andiamo a vedere, conoscio che cos'altro riesco a dirvi. Fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona. Intanto ci tengo a ringraziare, ragazzi, tutte le persone che sostengono il canale. Che sia un like, che sia un commento, che sia una condivisione, una donazione, ogni tipo di supporto per me è importante. E quindi ringrazio tutte le persone che si prendono il tempo di lasciare il like, piuttosto che il commento. Allora, abbiamo gravame e il silenzio. Carte della luna, scusate, carte della stella e carte del 6 di spade. È un po' quello che sentivo di qui, no? Nel senso, è qualche cosa che risale all'infanzia. È qualche cosa che, anzi, lo metterei in mezzo perché anche questa è una carta che riguarda l'infanzia. Allora, la carta della stella è una carta di guarigione. E in questo mazzo, nello specifico, si chiama il silenzio. Un po' come se vi dicessero di guardarvi dentro. La figura è rappresentata agli occhi chiusi, ok? Quindi è un po' come se vi dicessero di, appunto, guardarvi dentro il discorso del bambino interiore che vi dicevo prima. Perché qui c'è qualche questione legata al passato, qualche tipo di aspettativa legata al passato che voi vi state portando dietro, che comunque vi pesa. Può essere, se per caso qui siete voi genitori, può essere che voi abbiate imparato un certo tipo di dinamica, un certo tipo di comportamento dai vostri genitori. Quindi non vi rendiate conto che la, fondamentalmente che la si sta riproponendo e di conseguenza si ripete la stessa dinamica che voi avete avuto con i vostri genitori. Quindi in quel caso lì, quando si vuole cambiare le dinamiche con i figli, basta, diciamo, fare un passo indietro. Per andare avanti, in questi casi, ogni tanto è bene fare un passo indietro. Va bene, andiamo a vedere ancora un oracolo per chiudere la lettura. Allora, ecco il passo indietro che vi dicevo prima, l'osservatore, carta numero 49. Qui si tratta di guardare col binocolo, quindi lontano, anche lontano nel tempo, sia indietro sia nel futuro. Guardate, c'è una cosa, un messaggio che mi è arrivato adesso, riguardo al diavolo e riguardo a questo osservatore. Normalmente, quando si guarda indietro, tende sia a guardare indietro solo dal nostro punto di vista, cioè quello che abbiamo vissuto e partito noi, o gioito. Però, il fare il passo indietro è un po' come dire, ok, occhio a quelle che sono le manipolazioni della mente, le proiezioni della mente, e osserva bene in realtà le cose come sono andate. Perché, quando c'è il diavolo, quando c'è una situazione, in qualche modo tossica, dove uno dei due tende a manipolare l'altro, state pur tranquilli che non è da solo nella coppia. Nel senso che la tendenza è quella che entrambe tendano a manipolarsi. Cioè, per la serie che scagli la prima pietra, chi è senza peccato. Ecco, quindi è per quello che c'è questa carta di osservatore. Diciamo che ognuno ha le proprie responsabilità. Questo ve lo dico perché se state facendo un lavoro sull'ego, serve proprio a quello, a sviscerare l'ego. Allora, carta numero 27, scambiarsi i doni. E qui, ragazzi, si parla di scambiarsi i doni in modo, avevamo, eccoci, un 6 di denari, in modo incondizionato, senza aspettarsi, cioè, il piacere di dare, no? È quello, in fondo, regalare un dono. Poi, d'accordo, c'è questo scambio che io dico sempre, non è detto che sia la persona alla quale fate il regalo, che vi restituisca il regalo, ma state pur tranquilli che la vita, in qualche modo, ve lo restituisce. Amici del toro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura sia stata di ispirazione. Scrivetevi poi nei commenti. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Vi abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao!